In 150 anni si è applicato un motore a combustione, in particolare la collezione spazia dalle prime macchine idrauliche e poi ai motori a vapore, quindi i protagonisti della rivoluzione industriale, fino ad arrivare ai motori aeronautici, ai motori automobilistici e adesso stiamo incrementando anche la parte dei motori navali. Il restauro è opera tua? Il restauro di gran parte della collezione è un'attività che ho cominciato quando ero studente e che tuttora seguo insieme adesso anche ad alcuni miei collaboratori per continuamente ingrandire la nostra collezione. Anche perché ricordiamo che questo museo si trova nell'Università di Palermo, quindi qui alla Facoltà di Ingegneria? Il museo è dell'Università degli Studi di Palermo e fa parte in particolare del sistema museale di Ateneo insieme ad altri cinque musei. Questo è dedicato chiaramente alla meccanica e alla motoristica in particolare. e racchiude una vasta collezione di oltre 400 pezzi. E da dove viene la collezione? La collezione è molto antica, risale alla fondazione della Scuola di Ingegneria qui a Palermo. Nel corso poi degli anni, dei decenni, si è incrementata attraverso acquisizioni di motori per scopo di ricerca o didattica e poi varie acquisizioni o donazioni che nel corso del tempo l'Università ha ricevuto. In particolare da quando poi esiste il museo, circa dieci anni, chiaramente il museo è diventato un nucleo di accrescimento di questa collezione grazie a numerose donazioni sia di altri enti pubblici o anche di privati. Ecco, tra l'altro questo museo ha ricevuto un importante riconoscimento da oltreoceano perché abbiamo visto all'ingresso una targa che testimonia l'importanza a livello internazionale che è stata riconosciuta al vostro museo. Sì, nel 2017 l'ASME, che è l'American Society of Mechanical Engineers, che è l'ente di ingegneria meccanica più importante al mondo ci ha assegnato un prestigioso riconoscimento internazionale che è l'ASME Lermark, il primo tra l'altro assegnato in Italia ed è volto proprio a sottolineare sia la qualità e l'importanza della nostra collezione ma anche il livello di attività che noi svolgiamo a favore e a tutela della valorizzazione del patrimonio storico industriale. Ecco, oltre appunto a questi motori che vediamo qui nella zona dell'ingresso appunto del museo poi c'è il percorso che continua con invece dei pezzi più moderni. Sì, il museo è suddiviso, la collezione è suddivisa in vari settori ognuno dei quali i pezzi sono esposti in ordine cronologico per rappresentare quella che è stata l'evoluzione in ciascun ambito dalle macchine stazionarie ai motori aeronautici ai motori navali, motori automobilistici quindi il visitatore può fondamentalmente osservare un percorso di evoluzione storica e tecnologica. Infatti direi tecnologica ma non è relativa anche soltanto ai motori perché tra gli elementi che sono qui in esposizione abbiamo visto anche delle telecamere, delle macchine fotografiche, degli strumenti di rilevazione quindi una storia che si costruisce attraverso vari elementi. Sì, una parte importante sono gli elementi didattici e l'equipaggiamento scientifico che venivano utilizzati e in parte alcuni di questi vengono ancora utilizzati a scopo didattico o di ricerca nei nostri laboratori. Il Museo dei motori e dei meccanismi di Palermo dispone anche di un laboratorio di restauro. A nostre spalle si sta lavorando per restaurare un motore, un motore particolare, molto raro, del 1929, un Isotta Fraschini. Giuseppe? Sì, è un motore che abbiamo recuperato esattamente un anno fa. Era stato utilizzato come motore ausiliario nell'antica funivia che collegava a Trapanierice ma in realtà originariamente è un motore che nasce nel 1929 prodotto appunto da Resotta Fraschini per una grande automobile di lusso che poi si è perduta e così all'inizio degli anni 50 il motore è stato riutilizzato per l'impiego industriale. Quanto tempo ci vuole per restaurare un motore così e che cosa è necessario fare? Generalmente dipende dal tipo di approccio che si vuole eseguire, è un approccio puramente conservativo oppure integrale. In questo momento, in questo caso, siamo costretti a seguire un approccio di restauro complessivo e totale perché le condizioni di partenza non ci consentivano nessun approccio conservativo che generalmente è quello che prediligiamo. Il nostro scopo in questo caso è di far tornare il motore alla piena funzionalità e quindi abbiamo smontato il motore in tutte le sue parti e ognuno di queste è in questo momento in fase di restauro. Qui davanti a noi abbiamo in questo momento il monoblocco, il basamento anzi per essere più precisi, che è stato appena terminato e che tra poco andrà in verniciatura. Penso che entro qualche mese dovremmo riuscire, se tutto va bene, salvo imprevisti, a concludere questo progetto. Chi è che lavora per il restauro dei motori? Il restauro lavoro io come coordinatore delle attività e mi avvalgo anche della collaborazione di parte dello staff del museo. In questo momento si compone anche di quattro volontari del Servizio Civile Nazionale. Sono ragazzi che stanno un anno qui con noi e danno un'importante attività, non soltanto quella del restauro. Fuori onda Giuseppe ci stava anche raccontando di una particolare collaborazione con la Polizia Scientifica. Sì, è un esempio delle tante collaborazioni che questo museo ha instaurato nella realizzazione dei propri progetti. In particolare per l'Isotta Fraschini ci siamo rivolti alla Polizia Scientifica e in particolare al Gabinetto di Polizia Scientifica della Sicilia Occidentale. Grazie a loro e grazie anche ai colleghi del Dipartimento di Meccanica che è l'Università di Ingegneria Meccanica e siamo riusciti a risalire, a recuperare l'originale numero di matricola di questo motore sotto a Fraschini che era stato parzialmente rovinato e grazie poi al registro dei sotto a Fraschini siamo riusciti a ricostruire l'inizio della storia di questo motore e quindi l'esatta data di fabbricazione. Un'altra importante collaborazione che abbiamo attivato su questo progetto è la collaborazione con il Museo Nazionale dell'Automobile che ha sede a Torino che, ironia della sorte, ospita un identico motore che differisce di un solo numero di matricola. Con loro la collaborazione è particolarmente interessante anche dal punto di vista tecnico perché loro hanno prestato a noi dei pezzi del loro motore affinché noi li potessimo ricostruire e la stessa cosa abbiamo fatto noi con loro. A proposito del Museo dei motori e dei meccanismi qui di Palermo vi diamo un appuntamento se non riuscite a venire a visitarlo prima perché c'è una tappa che è assolutamente d'obbligo ed è a ottobre. Raccontacela Giuseppe. Sì, questo museo ospita tantissime manifestazioni ma ce n'è una in particolare che per noi è molto importante che è la Targa Florio Classic il Ferrari Tribute to Targa Florio che faranno base qui al museo dal 9 al 13 di ottobre. Appuntamento quindi da non perdere assolutamente vi aspettiamo qui al Museo dei motori e dei meccanismi di Palermo.